Inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti con le relazioni del procuratore generale Giacinto D'Amico e del presidente Mario Nispilandi, oltre a quella del presidente della sezione di controllo Stefano Siragusa. Il bilancio del procuratore è positivo nella comparazione nel 2023 a confronto con altre procure regionali più grandi, quella cui la nasce a testa alta, in tema di parificazione del rendiconto generale della regione Abruzzo, intensa l'attività. La sezione di controllo nel pianificare il rendiconto, come è noto, ha escluso alcuni capitoli e ha ritenuto successivamente questi non parificabili relativi a società di liquidazione. La procura ha lavorato molto nel settore energetico e sugli aiuti alle persone. Nel primo caso ha chiesto il risarcimento ad un gestore per una somma superiore ai 4 milioni per indebita percezione. Nel secondo, per indebita percezione del reddito di cittadinanza, si è lavorato molto intensamente, come per le consuete tipologie di danno e la reale, per lavori pubblici, contributi, reati contro la pubblica amministrazione, gestione dei fondi per calamità naturale. Con percezione indebita di contributo per la riparazione di immobili. Riguardo i reati contro la pubblica amministrazione, sono arrivate varie denunce per casi di assenteismo. Da segnalare il giudizio nei confronti di due dipendenti ASL, ma anche quello per il caso di abbandono della postazione di guarda medica di un ospedale. E' ancora intensa l'attività su fondi europei e su sanità. Nei confronti di un ex assessore regionale condannato per peculato, è stato attivato il giudizio per danno di immagine alla regione. Non sono mancati i debiti fuori bilancio assunti per risarcire i cittadini in corsi in danni per buca alle strade e marciapiedi. Disposte 792 nuove istruttorie, soprattutto riguardanti le ASL, rimangono fascicoli pendenti ancora. La sezione giurisdizionale ha emesso 21 sentenze di condanna per 800.000 euro. Le sezioni di appella hanno emesso 12 sentenze. La sezione di controllo ha svolto la sua attività sugli antilocali e la loro gestione finanziaria, adottando 220 deliberazioni di criticità finanziarie. ha svolto un'analisi accurata anche sui piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, controlli anche sull'attuazione del PNRR.